Il nostro progetto si impegna a informare le persone sull'importanza delle piante e su quanto siano importanti per l'ambiente tramite app che viene formata sotto forma di gioco che permette a chi usa l'app di scannerizzare un codice QR che visualizza le informazioni delle piante e la capacità di accumulo di anidride carbonica. L'obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare i nostri coetanei sui temi del cambiamento climatico e offrire uno strumento facile per misurare l'accumulo di anidride carbonica nelle piante arboree e infine per valorizzare i nostri territori e rendere le persone più empatiche verso la natura. Abbiamo realizzato le misure sul campo di alcuni diametri e altezze delle piante che sono disposti lungo il sentiero d'arte. Lo sviluppo dell'app serve per restituire le informazioni che abbiamo raccolto sotto forma di gioco ai frequentatori del percorso. Questo progetto ci ha fatto conoscere il modo in cui le piante aiutano la nostra terra nell'asservire l'anidride carbonica. Gli alberi infatti sono essenziali per questo pianeta in mille ragioni diverse e grazie a questo progetto ne abbiamo preso atto. Grazie al progetto speriamo di sensibilizzare le persone nei confronti dell'ambiente. Grazie a tutti.